Come potrà accadere? Come potrà accadere? E' una cosa che sento, la sento mia, non so dirti se c'è stato un momento particolare, sento mia ed è una cosa che non è che acquisisci e è buona. Credo che la devi portare sempre avanti, giorno dopo giorno, quindi essere consapevole ma cercare di dimostrare giorno dopo giorno il tuo valore come giocatore, come persona e anche come ruoli che ti vengono assegnati o riconosciuti come questo.